Bentornati adesso a Sarezzo TV, buonasera Beppe, prima di parlare, questi pini li volevano far seccare tutti, hanno fatto una potatura a me e li hanno seccati tutti, vabbè vuol dire che li hanno seccati davano le radici. Allora ti seguo in questo filone, sai cosa vogliono fare secca adesso? L'istituzione giostra, abbiamo letto un articolo sulla stampa in questi giorni della Nazione esattamente che dice che vogliono riformare, come si dice, la governance della giostra e sostanzialmente vogliono dare tutto in mano all'ufficio giostra e da quel, è ancora un progetto embrionale, poi i quartieri credo dovranno esprimersi, credo no, anche perché dentro ci sono loro adesso l'istituzione con i rettori, però l'idea è quella sostanzialmente di lasciare i rettori solo una funzione consultiva, cioè tutto il resto, organizzazione, gestione, regolamento, gestione, farebbe tutto l'ufficio giostra del Comune. Se va a vedere gli atti quando io era assessor della giostra c'è proprio questa soluzione dettata da me a mio tempo, a suo tempo e penso che sia la soluzione migliore, non possono i rettori della giostra, essi all'interno dell'associazione, prendere i contributi e votare i contributi che si prendono, assolutamente no, questo è un esempio, poi tante altre cose, quindi la gestione della giostra va fatta da un ente terzo, quindi dall'amministrazione comunale che l'organizza e non dai quartieri che poi giostano per vincere la giostra del Saracino, la giostra del Saracino va fatta dal Comune di Arezzo, in prima persona, il sindaco deve essere il primo responsabile che nominerà sicuramente una sua persona di fiducia all'interno dell'ufficio giostra del Saracino del Comune di Arezzo e poi i quartieri vanno soltanto a potere consultivo, come una volta, come è stato prospettato nella mia ipotesi di dieci anni fa. Quindi il tempo è galantuomo? Sicuramente sì, perché tanto le cose fatte bene vengono sempre fuori, non ci niente da fare. Quindi questa ti senti di approvarla, questa iniziativa del sindaco? Non solo approvarla, di più ancora, è fatta veramente bene, era l'ora che venisse fatta. Se la farà arrivare in fondo? Beh, se è determinato penso non abbia problemi, perché ha il potere di farlo come e quando vuole, quindi non c'è problemi. Quando lui decide di sciogliere l'interciosto lo scioglie immediatamente. E ti dirò che anche evita problematiche che siano anche evidenziate con l'ufficio ragioneria e con gli uffici preposti, delle problematiche che c'erano di conflitto di interessi. Di chi? Di direttori? Come ti dicevo prima, direttori che votavano il contributo che poi dovesse dato a qualsiasi stessi, di cui loro erano rappresentanti. Quindi questo sicuramente è una cosa che va veramente bene. E può esserci un risparmio per l'amministrazione pubblica da questa operazione? Ma sicuramente no. Sicuramente no. Andrà avanti tutto come ora. perché l'ufficio giosta c'è già, quindi i costi ci sono già, la giosta in se stessa sarà sempre uguale e l'istituzione non costava niente perché il torno non è che prendesse un certo torno di presenza. Quindi non lo prenderà nessuno e rimarrà così com'è, però ci sarà una maggior tiarezza all'interno della giosta di Saracino. E quindi la manifestazione potrebbe migliorare o no? Oppure non incide, secondo te, sull'organizzazione stessa? Secondo me migliora. Secondo me migliora perché sicuramente gli uffici della giostra consulteranno i quartieri per eventuali modifiche importanti, non su tutto, ma su modifiche importanti, soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento delle carriere, lo svolgimento della giostra di Saracino, tutto il resto sarà panaggio solo dall'amministrazione. E quindi avranno potere consultivo e dopodiché se l'ufficio giostra di Saracino deciderà per conto suo come andare avanti. E quindi? Esatto, perché ci sono visto le problematiche... Perché i torni secondo te accetteranno di questa novità? Ma alcuni sì e alcuni no. So a chi non farà piacere e so a chi farà piacere. E dicelo a chi non farà piacere, a quali quartieri non farà piacere. Si dice il peccato, non il peccato. Porta crucifere. Lo dici te. Ho chiesto una domanda, punto interrogativo. Porta santo spiega. Scusa, ma se vai per l'escusione dopo sarai a un fondo... Non sarà il segreto, il terzo segreto di fatti. No, sicuramente no. Però sicuramente qualche quartiere favorevole può fare. Tu dici il sindaco, se vuole, va avanti. Deve andare avanti. In questo caso deve andare avanti. Perché fa una cosa veramente fatta bene. Bene della giostra. Si è arrivato a questa ipotesi vuol dire che ha visto che qualcosa non andava. Sicuramente sì. Sicuramente sì. Avrà partecipato a qualche riunione dell'istituzione della stessa di Saracino e si sarà reso conto. A te non ti mancano quelle riunioni dell'istituzione giostra? No, assolutamente no. Io non le avrei fatte per niente. Alla faccia della democrazia. Solo dittatura lì ci vuole, basta. Grazie. Peppe Marconi ci vediamo domani. Ciao.